Ieri sera è andato in onda un clamoroso tentativo di manipolazione della realtà da parte del sindaco Matteo Ricci. Con queste parole il fondatore di IoApro ha replicato al primo cittadino di Pesaro, Umberto Carriera, attraverso un video ci ha raccontato la sua versione dei fatti. Manifestazione assolutamente pacifica in pezzale della libertà contro il Green Pass con circa un milione di persone, conclusa alle 21.30 inizia un corteo pacifico e spontaneo di un centinaio di persone verso il centro storico. Passiamo tutte le vie del centro storico, le vie del corso, urlando libertà, libertà e no Green Pass, raccogliendo gli applausi delle persone che erano nei locali a mangiare, a fare una passeggiata. A un certo punto arriviamo davanti a casa del sindaco, nella via in cui abita il sindaco Matteo Ricci e ci freniamo lì 3 o 4 minuti a aneggiare il coro libertà, libertà, no Green Pass, no Green Pass e poi ce ne andiamo. Tutto questo con le forze dell'ordine che ci scortavano in maniera assolutamente collaborativa. Dopo qualche minuto ha ribadito Carriera, la manifestazione è finita e siamo andati via. Torno a casa appunto e guardo sull'ordine 4 il sindaco Matteo Ricci che inneggia lo squadrismo alla violenza, alla diffamazione dei suoi confronti e all'intimorire la sua famiglia. Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Perché ci dovete etichettare con delle parole soltanto per fare mera propaganda politica, soltanto per passare da martire o da vittima, quando in realtà ne abbiamo manifestato in tutta la città in maniera assolutamente pacifica, urlando, ripeto, libertà, libertà, no Green Pass, no Green Pass, famiglie, bambine, anziani, nonni, persone preoccupate per quello che potrebbe essere un obbligo vaccinale anche per andare a scuola o andare al ristorante, né cinema, né musea, né teatri. Una manipolazione della realtà senza precedenti. Se il sindaco vuole può anche mettere un bel divieto, con scritto divieto, di manifestare ed esprimere il dissenso.